Con Simone Cardullo per la Hermes, che è un po' la vostra vetina, Simone, del Comitato regionale Toscana, si premiano le società che hanno vinto i campionati e le coppe della passata stagione, c'è la presenza anche di Giovanni Petrucci, sei soddisfatto di questa mattinata, ma in generale dei risultati prodotti dalla tua Toscana? Innanzitutto sono soddisfatto dei risultati prodotti dalle società giovanili, quindi di base della Toscana. Poi la presenza oggi anche del Presidente federale, del Presidente del Coni regionale Sanso, dell'assessore dello sport del Comune di Firenze e Vannucci hanno dato più lustro alla manifestazione, così come anche ricordare le malattie del diabete con i medici del Maier che mi sembra sia stato un momento importante, anche con una grossa presenza di dirigenti, atleti, di addetti ai lavori. Ne parlavo anche con Massimo Faraoni, come inquadri il momento della Toscana del basket? Comunque è una realtà che ha tenuto botta alla crisi e sta cercando di crescere anche a livello di Fesserati. Io quando sono rientrato in federazione nel 2012, la situazione si parlava sempre di crisi, di crisi. La crisi noi l'abbiamo subita anche come in tante altre regioni, un po' meno delle altre regioni, però devo dire che non siamo stati noi federazione a rilanciare, ma sono le società stesse, il movimento stesso che si è rivitalizzato e che dai numeri che abbiamo negli ultimi tre anni abbiamo risalire dal punto di vista quantitativo. Poi i risultati, avete visto, Pistoya ha vinto un titolo giovanile, abbiamo la mancanza di Siena in questo momento, ma penso e spero che ritorni in auge anche lei. Abbiamo Livorno sempre sugli scudi, abbiamo delle nuove realtà come Empoli, Un ritorno del Galli, quindi il movimento è vitale e siamo soddisfatti. Possiamo migliorare comunque.